Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati a questo appuntamento del mattino delle 7.30 con la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre apre la nostra giornata insieme, insieme all'informazione naturalmente, tra poco lo faremo sfogliando con il nostro touchscreen i giornali con gli inserti della provincia di Pesero Urbino. Allora, prima di cominciare con i giornali, come sempre guardiamo il Santo del Giorno e vi diciamo anche qualche cosa perché sui Santi ci sono delle storie straordinarie, basterebbe avere un minuto di tempo per andarle a rivedere, magari prendere spunto anche per migliorare un po' se stessi. Allora, oggi è San Giovanni di Dio, per esempio. San Giovanni di Dio è nato in Portogallo nel 1495 e leggere la storia di San Giovanni è una bella storia perché è una storia avventurosa, ebbe una vita avventurosa. Pensate che a soli otto anni lasciò la casa paterna e andò via. Addirittura finì in manicomio, tra le tante cose perché a un certo punto quando sentì all'interno di una chiesa l'omelia di Giovanni Davila uscì dalla chiesa e ad alta voce cominciò a urlare, a chiedere la misericordia di Dio. Finì addirittura per essere ritenuto matto e ricoverato in manicomio. Ma cosa fece? Aprì gli ospizi, chiese i soldi per i poveri e i malati, morì a Granata nel 1550. Grazie al suo insegnamento nacquero i Fatebene Fratelli. Il sole è sorto alle 6.31 e il tramonterà alle 18.06. Allora, adesso andiamo a vedere il tempo. Cominciamo, andiamo un attimo sul sito di occhionotizia.it. Scorriamo giù, vedete intanto qui c'è sulla destra un riquadro con le previsioni del meteo.it aggiornate e vedete anche oggi martedì 8 di marzo. Qualcuno dirà ma si è dimenticato che oggi è la festa della donna? Non mi sono dimenticato, auguri. Martedì 8 c'è tempo cattivo, mercoledì lo stesso, vedete tempo brutto. Fino a giovedì migliorerà nel fine settimana. Ma volevo andare a vedere e farvi vedere ancora, rispolverare un po' per chi non ci va spesso nel nostro sito. Ecco, vedete quante cose ci sono interessanti. Abbiamo anche l'osservatorio meteorologico con i dati aggiornati. Questi sono delle 7.32. C'è proprio qui sopra il nostro tetto, nella sede, abbiamo una stazione meteorologica che rileva tutti i dati. Il vento, la pioggia, l'umidità, eccetera, eccetera. Vedete, fa freddo questa mattina, è freddo. Sono 3 gradi questa mattina alle 7 e mezzo. Il cielo, ecco come si presenta sopra la città di Fano. Ancora va bene, nel senso che c'è ancora il sole, ma arriverà presto la pioggia. Vedete, sotto c'è anche, per chi vuol vedere l'Italia dall'alto, il satellite. Andiamo adesso invece sul sito della protezione civile delle Marche per vedere velocemente le previsioni del tempo. Allora, come ci indica già la grafica, vedete, insomma, c'è cattivo tempo e addirittura pioggia mista a neve sopra i 1.100 metri. Le temperature sono stazionarie, avremo qualche rovescio o temporale da questa sera, più insistenti nel settore centro-settentrionale della regione, quindi la provincia di Peso Urbino. Ma il tempo che continuerà anche domani, mercoledì 9 di marzo, con il limite delle nevicate attorno ai 1.000 metri. Ci saranno anche dei temporali, sempre rovesci diffusi, al mattino in esaurimento nel corso del pomeriggio, più insistenti lungo la fascia costiera da Ancona verso Pesaro. Migliora il tempo giovedì, invece, vedete, avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento. Poi c'è un generale miglioramento del tempo, con probabile insediamento di un solido anticiclone che potrebbe portare un anticipo di primavera, bella sostenuta, per non dire adesso estate, perché mi sembra un po' esagerato. Però, insomma, una bella primavera con temperature abbastanza elevate. Allora, cominciamo a leggere i giornali e cominciamo dal Corriere Adriatico. Corriere Adriatico, la pagina di Fano, eccola qua. La sanità in primo piano. Il titolo, No a Fosso Segiore, un boato nella rete, cioè su internet. Solo oltre 2.700 in due giorni le adesioni al gruppo Facebook aperto da un medico del Santa Croce. In due giorni più di 2.700 adesioni sulla rete il No a Fosso Segiore diventa un boato attraverso i social network. Tanti erano infatti alle 21 di ieri, ma il numero è in costante crescita. I membri di questo gruppo, gruppo chiuso di Facebook, nato con appunto questo nome, No a Fosso Segiore. L'iniziativa è di Paolo Lippe, come libero cittadino, coagula il dissenso contro Isito per l'ospedale unico. Sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, quartiere senza pediatria, ignorata la protesta di Fenile. Più di 50 mamme tornano alla carica per il mancato rinnovo del contratto alla dottoressa Bucci. Sotto un incidente sfiorato, Mattioli critico per l'incrocio al Codma, incidente sfiorato, realizzate la rotatoria, per poco non si verificava, un nuovo incidente nella famiglierato incrocio, nei pressi del Codma-Rosciano, dove tra l'altro spessissimo davvero accadono incidenti. Ne stava per fare le spese anche Giacomo Mattioli, ex segretario della lista civica della Tufano. lui racconta sul Corriere, ho appena evitato per un soffio, un frontale al solito incrocio, dove chi proviene del Sant'Orso in direzione alla zona industriale spesso attraversa senza guardare né tantomeno fermarsi e lì davvero bisognerebbe pensare, se è il caso di intervenire, è anche pensare a qualche cosa tipo una rotatoria, ma poi noi non siamo tecnici, però bisognerebbe fare qualcosa. Menù sgradito, gli alunni saltano il pasto, invece l'altra pagina di Fano monta la protesta dei genitori contro il servizio mensa, 150 euro al mese, ma molti mangiano poco. A Falcinetto si cerca di costituire un comitato, alla Corridone invece disappunto per la rieducazione alimentare. Sgomento per la morte, non ci sono altre ipotesi. La ricognizione cadaverica sulla quarantenne e le testimonianze raccolte dai carabinieri convergono sul suicidio. Il PM valuta l'autopsia, non è ancora stata fissata la data per l'autopsia sulla salma della quarantenne, trovata senza vita nel bagno dell'abitazione del compagno, domenica mattina in via dello squero a Lido. Si attende quindi il pronunciamento del magistrato. Mentre continua l'ondata di furti a Fano, ladri nella notte all'esercizio al 26, così si chiama, mirano al registratore di cassa, all'osteria però rubano soltanto gli spiccioli. All'ennesimo furto, in un locale pubblico, la montare dei danni supera il valore del maltolto. Stop alle irregolarità nei mercatini. In vista della Pasqua, il Movimento 5 Stelle di Fano interroga sulle attività del periodo natalizio. Violentò la sua ex fidanzata. Un 31enne è stato arrestato in seguito all'agguato e al sequestro. Era scappato in Australia. Finisce in cella dopo sette anni, perché è rientrato a Mondolfo pochi giorni fa e i carabinieri lo hanno rintracciato a casa della madre. Sempre sul giornale, sul Corriere Adriatico, da Orciano, un milione di euro per l'istituto Gio Pomodoro. Si allarga l'intesa intercomunale per una gestione scolastica sul territorio sempre più funzionale. In questa fotografia il Corriere pubblica la foto del sindaco di Orciano, Stefano Bacchiocchi. Allora, adesso Senigallia. Senigallia, velocemente, ci sono quelli che non pagano le mense scolastiche. Sono 177 famiglie che non pagano i pasti. Ammonta più di 30 mila euro il credito che vanta appunto il Comune. Il dirigente Mandolini dice ma non toglieremo da mangiare ai bambini. Litorale a rischio anche con le vasche, il comitato di Brugnetto pronto a ricorrere alle vie legali. Il primo invaso al confine con Bettolelle. La pagina di Pesaro invece con il furto alla tabaccheria Binda. Tre ladri fanno razzie di sigarette e grattini, danno ingente al locale. Il titolare dice sono esasperato, hanno sfondato una finestra del vicino Cantuccio, poi con il martello pneumatico hanno abbattuto la parete. Dunque sono entrati in una pasticceria, esattamente in questa pasticceria. hanno praticato un buco e sono entrati per andare a rubare appunto nel locale attivo che è una ricevitoria tabaccheria che si chiama appunto Binda. Andiamo adesso sul messaggero, messaggero che apre con il successo della Coppa Davis di tennis. La città di Pesaro adesso vuole il bis. Oggi c'è un sopralluogo al circolo Baratov. Tra dieci giorni arriverà la risposta ufficiale della federazione. Il presidente Bedetti dice sono emozionato, ma con cautela adesso vedremo, dovremmo fare tutte le valutazioni. Siamo i primi candidati, però c'è anche Torino che vorrebbe questo importante evento sportivo-tennistico. Poi a Urbani invece prende fuoco il materasso, un anziano muore asfissiato. È un novantenne che ha tentato di fuggire, però purtroppo non ce l'ha fatto. È stato trovato ieri intorno alle 12.45 Francesco Candiracci, morto per intossicazione da monossido di carbonio nella sua casa. A Sant'Orso nascerà il quartiere a misura di bambino. Lo ha annunciato il sindaco Seri, il piano a cui stanno lavorando Comune di Fano e genitori, famiglie. È stato presentato ieri dal sindaco. Le pagine interne, la pagina delle Marche e del messaggero. Dove andranno a finire i dipendenti delle province? Sono 550 e il futuro è un caso. Ceriscioli, il presidente della regione, vorrebbe trasferirli tutti ad Ancona. Cesetti però frena e dice che i territori sono da tutelare. Oggi c'è un altro vertice per cercare di trovare una soluzione a questi dipendenti. Consumi in ripresa, invece, le famiglie pesaresi tornano a spendere. L'aumento è stato del 5,5%. Rispetto all'anno scorso le associazioni però non sono così ottimiste. Sull'8 marzo il Comune di Pesaro contro la pubblicità sessista scattano nuove regole per i manifesti. Quando si parla di pubblicità sessista è un po' come dire mettere la donna e valutare, mettere in bella mostra, in vetrina la donna e considerarla come merce e non come persona con una dignità. Quindi ce ne sono, ce ne sono diverse, si vedono, poi magari uno ormai non ci fa neanche più caso, però è così. Scattano dunque nuove regole per i manifesti. Il Consiglio Comunale di Pesaro alla vigilia della festa della donna, quindi ieri ha approvato l'introduzione di regole più serrate per vietare messaggi pubblicitari sugli impianti e manifesti che offendano la dignità femminile. Bisognerebbe anche togliere per esempio quelle pubblicità, ne ho viste una per esempio a Sant'Orso di fianco alla chiesa che pubblicizza il sexy shop, adesso io non è che voglio fare il bacchettone, però insomma, ecco, se dobbiamo fare una cosa cerchiamo di fare delle cose che abbiano un senso, se no diventa una caccia alle streghe che ha poco senso. Quindi va bene la donna, ma va bene anche tutelare quei bambini che dicono babbo che cos'è un sexy shop e tu che devi raccontare che cos'è un sexy shop cercando di non scandalizzare nessuno. Perché succede anche questo, i bambini sono curiosi e quindi da noi funziona così. Va bene, sul messaggero, omicidio di Ismaele, Igli e Mario, si diranno in faccia la loro verità. Stiamo parlando dell'incidente probatorio tra i due accusati del delitto di Ismaele Lulli, il 17enne di Sant'Angelo Invado dove sono accusati Igli Meta, 19 anni, albanese che tra l'altro ha confessato subito l'omicidio del povero Ismaele e del suo complice Mario Mema che è accusato del concorso in omicidio. L'avvocato a sole però che difende Igli dice noi vorremmo il confronto con Ambera. Ambera è la ragazza, ricorderete, che ha fatto scattare la gelosia di Igli, era la sua compagna, la sua fidanzata. Ambera, lei potrà chiarire, dice l'avvocato, molte cose. Staremo a vedere se la cosa sarà fattibile. Andiamo sulla pagina di Fano del messaggero. Sul nuovo ospedale Massimo Seri il sindaco dice questo metodo non va, se l'è un po' presa per non essere stato avvisato di questa delibera regionale dove in questa delibera si diceva insomma che l'ospedale verrà costruito a Fosso Segliore. Era il nostro sindaco, il sindaco di Fano era all'oscuro, si trovava in quei giorni a Bruxelles. i consiglieri regionali non lo hanno avvisato, quindi se l'è un po' presa con Rapa, Carloni e Minardi, se l'è presa con il presidente del Consiglio, scusate, il presidente della regione Ceriscioli. Insomma, è un po' così, è un po' una situazione del tutti contro tutti, lui contro Ricci, Ricci contro Seri, è un po' così. Sì, staremo a vedere però come andrà a finire questa battaglia, questa cosa sull'ospedale unico sulla quale bisognerebbe parlare e cercare di fare ancora un po' più luce. Insomma, nulla cambia nella sostanza, ma da parte di Ancona non c'è stata informazione preventiva, dice il sindaco. Chiudiamo con il resto del Carlino. Allora, la fotonotizia, la prima pagina del resto del Carlino, eccola qui, la banda dei buchi. Abbiamo visto, ecco quindi la fotografia della pasticceria, dalla quale hanno praticato i due fori per entrare nella tabaccheria. Guardate che lavoro. Per rubare cosa? Poca roba, i danni sono ingentissimi, quindi oltre il danno pure la beffa, mentre qua sopra c'è la storia, ma adesso la andremo a vedere nelle pagine interne, andiamo subito nelle pagine interne del resto del Carlino. Eccola qua, la storia di Roberta, la signora che fa il fabbro. Sì, avete capito bene, fa il fabbro, lavora il ferro. Meglio rimboccarsi le maniche, dice questa signora, Roberta Venerandi. Ho lavorato in fabbrica, poi ho scelto la famiglia e adesso sono qui, a fianco del marito. In verità sarei un mezzo fabbro perché non faccio saldature. Questa scelta mi consente di stare con le mie due figlie. In fabbrica sostanzialmente fai cose ripetitive ed esegui indicazioni di altri. Fare il fabbro invece, dice lei, è molto creativo perché realizzi da sola i prodotti. E poi sul resto del Carlino si parla anche nelle pagine di Urbino e Montefeltro di quella brutta storia protagonista di questo anziano pensionato di Urbania che purtroppo è stato trovato senza vita in casa, con le gambe ustionate. Un novantenne purtroppo è morto a causa dell'incendio che ha bruciato il suo materasso. Chiaruccia spopola su Facebook migliaia di sottoscrizioni in poche ore per la pagina del dottor Lippe, nuovo ospedale unico, monta la protesta social contro Fosso Segliore. Fuga in Australia dopo lo stupro, arrestato un 31enne di Mondolfo, al ritorno scattano le manette e poi infine la pagina di Fano del resto del Carlino, ombellichi al vento per la Cirinna, donne contestano la senatrice, l'utero dicono è solo il mio, la madre della legge sulle unioni civile finisce nel mirino. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.